Stai sequestrando tutti gli altri speciali. Perché? Lui ha sempre voluto scoprire il segreto della nostra mutazione. Ci ha torturato per anni. Vuole i nostri poteri, anche a costo di farci morire. E noi che possiamo fare? Dobbiamo salvarli, no? Siamo gli unici che possiamo farlo. Natasha! Ma come dice il dottor Caio, sono troppo debole per partecipare all'azione da sola. Ho bisogno di voi. Azione? Quale azione? Dobbiamo rapire Igor Zavarov.